Questa volta Piero Web va a Saviano in provincia di Napoli a fare visita alla pirotecnica Catapano. Per raggiungere l'azienda si esce a Nola. 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 Poi visitiamo il deposito dei materiali inerti. Per raggiungere l'azienda si esce a Nola. Per raggiungere l'azienda si esce a Nola. Per raggiungere l'azienda si esce a Nola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oltre la sbarra c'è l'area attiva della fabbrica. Raggiungiamo il cuore pulsante della fabbrica, il laboratorio. Questo è il laboratorio di lavorazione. Qui i pilotecnici sono all'opera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La spagatrice orizzontale ed il cavalletto, attrezzature indispensabili. Tutta l'azienda è dotata di impianto di illuminazione antideflagrazione. La spagatrice orizzontale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è il locale di miscele di colori. Grazie a tutti. 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 Questo è il deposito della polvere nera. Questo è il deposito di clorati. Questo è il deposito della polvere. Il deposito della polvere nera. Sono le dovute manichette degli grandi in tutto il perimetro della carta. Qui si vede la tettoia con la pressa. Il deposito della polvere nera. 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 Ecco alcune fasi di lavorazione dei razzi. Il deposito della polvere nera. Se tu ci fai caso ci mettiamo sempre la secatura sotto perché la secatura impedisce un qualsiasi frizionamento. Il deposito della polvere nera. Il deposito della polvere nera. Il deposito della polvere nera. Per la lavorazione di artifici sferici. Cadavano è dotato di una macchina anastra sfere. Ecco come si presenta la sfera appena anastrata. Si aggiunge il passafuoco e la carica di lancio contenuta in un sacchetto di plastica per evitare che prenda umidità. L'artificio è pronto. Il deposito della polvere nera. Il deposito della polvere nera. Dunque la pirotecnica. Dunque la pirotecnica catapano nasce nel novembre del 1994 dall'impegno e dalla strabiliante passione del sottoscritto. Dopo aver lavorato per decenni a fianco di valenti maestri napoletani. Su quale tipo di artifici si concentra la vostra produzione? La nostra produzione si concentra del tutto sulla fabbricazione delle classiche bombe da tiro napoletane. le fermate, le stutate, di popatelle, di stucchi, le farfalle e i salici piangenti. I pirotecnici napoletani sono conosciuti in tutto il mondo per gli artifici cilindrici a più aperture. Quali difficoltà si nascondono dietro la progettazione e la realizzazione di tali artifici? Le difficoltà sono che da un periodo è stata esportata la nostra arte in Cina. Automaticamente che cosa succede? Quello che noi fabbricavamo qua come nostro fiore all'occhiello ormai viene fabbricato a sottocosto in Cina e questo fa sì che noi siamo costretti a non poter fabbricare più quello che è il doc della produzione napoletana, cioè le bombe cilindriche. Con la taglierina si tagliano carta e cartone nelle misure volute. Giuseppe Catapano ci mostra alcune fasi della lavorazione di un artificio cilindrico notturno partendo dal taglio della corda mina. Sono le cornerine a lenta combustione temporizzate. Questo è il lampetto che serve ad accendere le pallette sferiche che poi a sua volta vengono proiettate e fanno un disegno a mosaico. Questo è uno stuccio finito. Questo è uno stuccio finito. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.